14 maggio 1944. Nasce a Modesto in California George Lucas. Dopo essersi laureato in un corso di cinema presso la University of Southern California, Lucas fonda con Ford Coppola lo studio American Zoetrope. Negli anni 70 per Lucas arriva il successo con American Graffiti del 1973, ma soprattutto con Guerre Stellari del 1977, che diventa, con L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, una saga dal successo planetario. Gli incassi derivanti dalla trilogia permettono a Lucas di aprire il suo proprio studio, la Lucasfilm, specializzato nella realizzazione di effetti sonori e visibili. Negli anni 90 e 2000 Lucas torna alla regia con la seconda trilogia di Guerre Stellari.